Allora, 17.00, io direi che, dato il tema del dibattito, possiamo iniziare puntualissimi. Allora, benvenuti a tutti a questo panel che ha un titolo molto generale e per il dibattito attuale molto importante, si chiama Germania, Italia e Europa ed è un panel che Villavigoni, che è un'istituzione bilaterale cogestita e cofinanziata dal governo italiano e tedesco che ha l'obiettivo proprio di favorire un dialogo e una cooperazione tra i due paesi, non possiamo che essere molto felici di dare oggi un bel esempio di dibattito, di scambio che per quanto critico rimane sempre in un senso di rispetto reciproco delle proprie opinioni anche a differenza di quello che un po' troppo spesso sia da parte italiana sia da parte tedesca che leggiamo sui giornali. Ringrazio questo affollatissimo panne ai nostri ospiti per essere qui che vi presenterò man mano a seconda dei loro interventi. Iniziamo subito con il primo ospite di questa sera, l'ambasciatore Michele Valensise, un diplomatico di lunghissimo corso tra Brasile, Seraievo e Berlino, diciamo uno dei punti di riferimento da sempre dello Stato italiano per i rapporti sulla Germania e che oggi proprio presiede Villavigoni. All'ambasciatore Valensise chiederei di darci per incominciare un quadro generale sulla questione italo-tedesca e al di là di tutto quello che possiamo leggere o non leggere sui giornali e ad ascoltarne il dibattito così politico-mediatico vorrei chiedere quali sono in realtà le divergenze, quali sono i punti di contatto, qual è, come si posizionano i due paesi e nel loro ruolo nel contesto europeo che credo che sia quello che anche dato il titolo del festival ci interessa di più. Lascio la parola all'ambasciatore Valensise. Grazie mille e buonasera a tutti. Sono molto contento di essere qui con voi, ho visto il titolo di questo vostro incontro che mi sembra un titolo che già propende molto per l'ottimismo perché invece di mettere siamo Europa punto interrogativo giustamente gli organizzatori hanno scritto siamo Europa come un'affermazione che va consolidata e va apprezzata. Allora, partiamo prima di rispondere alla domanda di Matteo con un breve flash sullo stato di salute di quello che siamo cioè lo stato di salute dell'Europa che in questo momento non è dei migliori come sappiamo tutti. L'Europa è non da oggi in uno stato di difficoltà, di incertezza il processo che ha assicurato pace, stabilità, progresso per tanti decenni ormai a tutti i suoi membri e che è stato anche un fattore di attrazione per i nuovi membri che si sono aggiunti nel corso degli anni tutta questa costruzione sembra segnare un po' il passo. Se guardiamo rapidissimamente la carta dell'Europa c'è un pezzo il più occidentale che ha deciso di uscirne il Regno Unito c'è un pezzo il più orientale che ha deciso di non entrarne di non entrarci a pieno, parlo dei paesi del gruppo di Vicegrad i paesi dell'ex est europeo c'è un gruppo di paesi, otto paesi in particolare della regione baltica e del nord Europa che hanno delle posizioni molto dure, molto assertive sul piano di quella che dovrebbe essere la solidarietà finanziaria all'interno della costruzione europea e poi non da ultimo c'è ormai un caso Italia o almeno un interrogativo su quello che potrebbe succedere in Italia non nascondiamocelo perché è fatto di queste settimane di questi giorni. Abbiamo visto anche qualche preoccupazione espresse in maniera più o meno rituale più o meno felice e più o meno controproducente da alcuni esponenti europei in particolare per quello che sta o potrebbe succedere in Italia e abbiamo dovuto anche ricordare che se c'è una sensibilità molto spiccata per quello che succede da noi questo dipende dal fatto che l'Europa è fatta ormai di tanti vasi comunicanti e che quello che succede in un paese viene seguito con attenzione prima sconosciuta anche negli altri paesi lo fanno i francesi, i tedeschi, gli olandesi e gli spagnoli con noi lo abbiamo fatto noi anche nei confronti di sviluppi di altri paesi però questa volta c'è qualche cosa di più profondo in ballo perché per la prima volta in Italia c'è un possibile orientamento che lascia perplessi i nostri partner europei e cioè un atteggiamento non più di adesione di fondo agli obiettivi della costruzione europea quanto una contestazione vivace legittima ma molto vivace e molto in profondità di alcuni punti che vengono considerati come essenziali per il progresso e la sopravvivenza dell'Europa questa preoccupazione si spiega a mio avviso anche col fatto che stiamo parlando quando parliamo d'Italia di un paese non certo marginale non certo piccolo stiamo parlando della terza economia dell'Eurozona e quindi dobbiamo abituarci al fatto di essere considerati anche in funzione del nostro ruolo, del nostro peso tanto che visto che siamo sempre ottimisti di professione ci potremmo anche chiedere potremmo anche porci la domanda tra di noi se questa situazione di essere considerati e di essere un partner non solo storico ma fondamentale dell'Unione Europea anche oggi ai fini della sua stabilità e del suo progresso se questa condizione non ci possa consentire dei margini interessanti per noi per far valere le nostre ragioni le nostre aspettative i nostri interessi forse anche con un po' di ottimismo la risposta potrebbe essere incoraggiante potrebbe essere positiva facciamo valere il peso che abbiamo non per rovesciare il tavolo e per lasciare la sala ma per sederci con maggiore grinta con maggiore assertività al tavolo e per ottenere quello che riteniamo giusto e riteniamo improrogabile ormai ottenere dall'Unione Europea questa potrebbe essere una piega una linea che l'Italia potrebbe prendere adesso però per farlo per farlo cari amici è necessaria a mio avviso una condizione che ha sempre caratterizzato la vita dell'Europa in questi decenni e cioè un tasso di credibilità e di affidabilità che noi dobbiamo avere conquistare o riconquistare nei confronti dei nostri dei nostri partner e per avere credibilità per avere affidabilità dobbiamo probabilmente uscire anche da alcune incertezze di fondo da alcune posizioni non chiarite da alcune posizioni altalenanti noi possiamo avere tutte le idee che vogliamo però per un interlocutore europeo è importante è essenziale sapere se noi manteniamo il nostro impegno a favore ad esempio della moneta comune oppure se come scritto anche se in maniera non ufficiale e non definitiva in un certo programma di governo vorremmo uscirne scritto allora c'è un margine di incertezza che è nel nostro interesse evitare dovremmo anche far sapere con chiarezza se nei confronti di questa montagna di debito pubblico che ci opprime faccio un altro esempio popolare di quelli che conosciamo tutti se di fronte a questo gravoso onere che ci portiamo dietro abbiamo l'intenzione in qualche modo con qualche formula anche da negoziare di far fronte ai nostri impegni oppure se come pure è stato detto vogliamo un giorno presentarci dal creditore e dire guarda fammi uno sconto di 250 miliardi perché io non te li posso pagare tutte queste sono non voglio per il momento entrare nel merito anche se avete capito bene come la penso però credo che siano tutti aspetti che abbiamo interesse a chiarire allora in questo quadro così incerto incerto per le ragioni che dicevamo e anche per l'incertezza di quello che potrebbe succedere in Italia si innesta il rapporto storico italo-tedesco quello al quale faceva riferimento Matteo Scotto questo è un rapporto forse altrettanto essenziale nella costruzione europea quanto lo è il rapporto tra la Francia e la Germania perché dico questo perché la Germania e l'Italia sono due paesi fondatori sono due paesi perfettamente molto integrati non perfettamente ma molto integrati sul piano della collaborazione economica hanno anche delle priorità molto convergenti quando si guarda all'esterno dell'Unione Europea nei rapporti con la Russia con il Medio Oriente nei rapporti con anche un determinato uso dello strumento militare c'è tutto un elenco di temi sui quali le posizioni l'Italia e Germania sono abbastanza convergenti se non coincidenti e ancora per citare anche una cosa che sui giornali di tutti i giorni ormai giustamente sul tema delle migrazioni se c'è un paese nella Unione Europea che ci ha dato sia pure tardivamente una certa sponda e un certo appoggio sulla base di una visione sostanzialmente comune questo paese è proprio la Germania allora che cosa dobbiamo fare noi con la Germania prima cosa dobbiamo evitare e sto quasi finendo il confronto che più che tra due paesi si avvice a due squadre di calcio che giocano nello stesso stadio tutto quello che è stereotipo tutto quello che è luogo comune voi siete pigri voi siete tirchi voi siete avari voi siete spendaccioni voi siete seri tutta questa roba qui noi la potremmo lasciare a qualche indegno collega del dottor Taino ma invece ragionare su temi che fa il giornalista indegno perché fa il giornalista ma invece collocare invece il rapporto tra Italia e Germania in una prospettiva un po' più seria un po' più di fondo e un po' più basata sugli effettivi interessi comuni dobbiamo evitare a mio avviso una collisione da tifoserie una collisione che può avvenire da posizioni sui due lati ipernazionaliste anche perché ne avremmo comunque avremmo comunque conferma del fatto che i nazionalismi non sono mai fatti per intendersi per collaborare e se dobbiamo collaborare con altri paesi è bene abbandonare delle posture eccessivamente fondate sul sul nazionalismo d'altri tempi non sull'interesse nazionale ma sul nazionalismo d'altri tempi questo questo sì tra l'altro mi ha colpito e sto veramente concludendo se la pioggia lo permette mi ha colpito il fatto che quando si è profilato un certo orientamento come in queste settimane forse anti-europeo e sicuramente anti-tedesco del nuovo possibile governo italiano la AFD che come sapete rappresenta l'estrema destra in Germania entrata solo sei mesi fa sette mesi fa al Bundestag per la prima volta formazione politica alleata della Lega la AFD ha preso posizione radicalmente contraria proprio a quella dei suoi alleati della Lega il che non promette nulla di buono ma conferma appunto la difficoltà che due formazioni chiamiamole iper nazionali possano avere nel dialogo nella comunicazione tra di loro ultimo punto se ci vuole dialogo su una base comune e al di là delle anzi per proprio in funzione delle differenze che possiamo avere con la Germania soprattutto in materia finanziaria se ci vuole dialogo allora ci vogliono anche dei dei punti per incontrarsi ci vuole la disponibilità di incontrarsi ci vogliono degli interlocutori che sappiano un poco intendere non è necessario parlare il tedesco o parlare l'italiano ma che sappiano intendersi almeno sulla stessa lunghezza d'onda e io che sono un ottimista spero sempre che questi temi questi spunti questi interlocutori ci siano io sono il presidente di un'istituzione che ha per obiettivo storico quello di favorire il dialogo la comprensione e quindi anche e soprattutto in primis la conoscenza tra questi due paesi si tratta di Villa Vigoni e speriamo di poter lavorare e di poter offrire anche dal nostro piccolo osservatorio piccolo ma dinamico osservatorio di Villa Vigoni speriamo di poter offrire a chiunque e a chiunque lo desideri una piattaforma di dialogo di scambio e possibilmente di collaborazione con il nostro alleato storico qual è la Germania grazie mille e buon lavoro a tutti allora sì se la pioggia ce lo permette e chiederei anche ai tecnici di aiutarci con i volumi il più possibile noi cercheremo di parlare forte ma se ci ha anche dato una mano grazie grazie presidente per questo primo quadro generale prima di entrare poi nel vivo della discussione chiederei al prossimo ospite Dario Fabri che è un autorevole analista dell'IMES la rivista italiana di geopolitica di darci un quadro che specialmente per la Germania non è comune o comunque è cosa nuova geopolitico della posizione tedesca non solo europeo ma anche che vada addirittura oltre anche ad esempio in un quadro translatantico cioè come si colloca geopoliticamente la Germania secondo te perché questo è un dato molto importante per capirne poi il ruolo politico grazie Matteo grazie per gli spunti oltre che per l'invito un po' meno grazie alla pioggia evidentemente sul Siam Europa ha qualche dubbio forse ha messo un punto interrogativo per usare la metafora che prima ha usato l'ambasciatore ovviamente sto scherzando io mi occupo per mestiere di questi tempi non è il massimo della vita me la rendo conto di Stati Uniti oltre che di Europa e tutto ciò sul quale gli americani intervengono quindi lo scibile puntualmente ma il rapporto tra Stati Uniti ed Europa e Stati Uniti e Germania è quasi la stessa cosa con occhi americani anzitutto proviamo ad immaginare perché può sembrare del tutto controintuitivo raccontare l'Europa attraverso gli Stati Uniti discutevamo in realtà anche questa mattina gli americani inventano l'Europa senza nessuna iperbole cioè proprio se la inventano di sana pianta dopo la seconda guerra mondiale intesa come imbrione di quella che sarebbe diventata molto più in là l'integrazione comunitaria costringendo proprio costringendo con la forza che qui non c'è nessuna iperbole francesi e quelli che sarebbero diventati tedeschi dell'Ovest a fare questo benedetto asse renano che non ci pensavano in nessuna maniera non dimentichiamoci che francesi e tedeschi saranno fatti tre guerre di cui due mondiali nell'arco di 70 anni non era esattamente il proposito che era nei loro sogni quello di sedersi ad un tavolo stamattina raccontavamo il caso di Robert Schumann raccontato come padre fondatore dell'integrazione comunitaria agli americani che era un noto germanofobo peraltro evidentemente tradito dal cognome gli americani lo costrinsero a diventare padre fondatore dopo che i suoi scritti non erano esattamente ecumenici nei confronti della Germania questo per ricordare che il ruolo che gli Stati Uniti hanno sempre avuto nei confronti dell'Europa è che si è modificato si sta modificando come è evidente anche guardando le cronache e si è poi stato un ruolo nettamente più importante degli altri cioè se noi non comprendiamo quanta volontà americana ci sia stata nella creazione dell'Europa finiamo fuori strada cioè tendiamo a scambiare l'Europa per una creazione autottona che è il suo grande limite il fatto di non esserla stata e non esserla ancora ma essere stata un'idea esogena in larghissima parte basti vedere anche prima l'ambasciatore citava quei paesi dell'Europa centro-orientale che a suo dire sono certamente d'accordo non sono entrati a pieno nell'Unione Europea per pura volontà americana c'erano molte riserve nel fargli entrare immediatamente gli americani anche lì si imposero basti guardare anche l'anno di adesione in molti casi alla Nato e all'Unione Europea che è esattamente identico non è certamente un caso è chiaro che gli americani non possono credere troppo nell'Europa perché l'hanno inventata loro cioè sarebbe come nella vita reale se Geppetto credesse a Pinocchio ma comunque a volte hanno fatto finta a lungo di crederci per loro l'Europa è fondamentalmente dicevo la Germania gli americani sono ossessionati dalla Germania partiamo da questo presupposto infatti i tedeschi rimangono sempre molto stupiti di questo fatto non capiscono bene che cavolo vogliano gli americani da loro specialmente oggi un po' perché ancestralmente gli americani sono in larghissima parte tedeschi io ahimè o per fortuna ho trascorso lungo periodo un'America un po' particolare che è il Texas gli americani sono come primissimo ceppo etnico di origine germanica chi non conosce gli Stati Uniti può pensare che siano inglesi irlandesi qualcuno addirittura tedeschi invece di gran lunga il primo ceppo giustamente l'ambasciatore cita Trump il primo ceppo è di origine tedesca Trump è un signore di origini del palatinato bavarese il cui vero cognome è Trump ma anche Obama da parte di madre aveva origini tedesche insomma è difficilissimo trovare un americano che non ce l'abbia parliamo di tedeschi perfettamente assimilati che sono la cifra stessa antropologica degli Stati Uniti al punto come molti sanno che si è dibattuto all'inizio 800 se addirittura utilizzare il tedesco come altra lingua ufficiale di molti stati americani oggi del tutto dimenticato quindi c'è un'attenzione un'ossessione americana proprio ancestrale nei confronti dei tedeschi e poi i tedeschi sono un paese estremamente capace prima diceva l'ambasciatore Valenzise noi non ci possiamo stupire da italiani delle attenzioni che riceviamo figurarsi la Germania cioè non si può essere così capace e poi stupirsi che la prima potenza globale si interessi anche in maniera ossessiva di te ma il punto specifico qual è che cosa vogliono gli americani oggi dall'Europa e dunque dalla Germania gli americani smettono di avere a cuore diciamo così le sorti dell'integrazione comunitaria una decina d'anni fa fino ad una decina d'anni fa tutto sommato partecipavano ho citato non a caso l'allargamento all'Europa centro orientale poi iniziano ad immaginare l'integrazione in quanto tale poco funzionale ai loro interessi per colpa o per fate voi o per fortuna della Germania cioè iniziano a intravedere nel sistema soprattutto dell'Eurozona qualcosa di troppo funzionale agli interessi tedeschi e dunque non funzionale agli interessi americani da quel momento l'atteggiamento americano cambia cambia notevolmente scambiare Trump per una sorta di Trump è il signore che dialetticamente spesso è schizofrenico tende a cambiare posizione quasi quanto il clima di oggi ma scambiare l'atteggiamento attuale di grande scetticismo americano nei confronti dell'integrazione comunitaria come un capriccio di Trump ci potrebbe portare fuori strada nemmeno Obama era un grande entusiasta anche se non paragonabile a Trump ma i presidenti se ci porterebbero lontani i presidenti americani hanno pochissimi poteri figurarsi se intervengono su queste ne hanno dialettici insomma il presidente americano è un signore dotato di pochi poteri interviene dialetticamente ma non può cambiare molto le cose l'atteggiamento profondo degli apparati americani si è molto modificato perché c'è la sensazione per l'appunto che non si dà bene se sia un'invenzione americana o tedesca e già questo ci dice molto che la Cerno Europa cioè che il nocciolo europeo diciamo così il nucleo europeo che secondo gli americani ripeto quindi c'è molto gli americani in questo la Germania nel caso di extrema razio vorrebbe creare essenzialmente per capirci la catena del valore tedesca cioè il sistema produttivo tedesco di cui anche il nord Italia fa parte di cui fanno parte fa parte il Benelux in particolare l'Olanda ma poi alcuni paesi anche di visce gradi dell'Europa cento-orientale come extrema razio la Germania la Finlandia potrebbe rinchiudersi in questo schema e tramutare la sfera di influenza economica è un passo molto grande per la Germania che mediamente nemmeno ci penserebbe in questa fase concretamente in uno spazio di influenza realmente geopolitico oggi dico non ci penserebbe perché se noi vediamo i paesi di visce che a tutto fanno tranne quello che dice la Germania eppure dipendono in buona parte economicamente da Berlino questo nell'immaginario americano cioè che nell'extrema razio ripeto la Germania possa rinchiudersi in questo tipo di nucleo che gli americani considererebbero estremamente nocivo per i loro interessi per gli Stati Uniti al di là anche qui c'è molta propaganda certamente l'Asia Pacifico che potesse essere stato ribattezzato Indo-Pacifico nella dizione americana è un teatro nel quale gli Stati Uniti si spendono molto la Cina sebbene abbia enormi problemi è un paese antagonistico sul quale gli americani sono molto concettati eccetera ma non sopravvalutiamo l'interesse americano per l'Asia Pacifico perché gli americani tendono molto a guardare all'Eurasia in particolare all'Europa e la Germania è il cuore inevitabilmente specialmente le sue intrinsechezze con la Russia altro elemento da sempre presentissimo nella mentalità degli apparati americani quindi questa tendenza più o meno reale se ne può discutere all'infinito di complementarietà tra russi e tedeschi che per usare un eufemismo non si amano ma che comunque hanno delle intrinsechezze che da sempre agitano gli americani nel momento in cui si nascesse parliamo in una fase che ripeto almeno per quanto ne sappia discutendo con i tedeschi non è proprio un piano effettivo nemmeno immaginato in alcuni casi ma che per gli americani è molto reale c'è la possibilità che nel momento in cui implodesse definitivamente l'architettura comunitaria per come la conosciamo cioè specialmente la moneta unica i tedeschi si rinchiudano nella loro vera sfera di influenza per l'altro per l'Italia sarebbe un problemino perché abbiamo il nord Italia che fa parte della catena di produzione tedesca ma il centro-sud assolutamente no e a quel punto bisognerebbe decidere anche da che parte stare e per l'Italia spesso questo vuol dire grandissimi problemi perché noi tendiamo a stare dalla parte di chi pensiamo in quel momento possa esserci utile ma non abbiamo una visione esattamente lucida per gli americani immaginare questo tipo di scenario è l'incubo assoluto infatti hanno cominciato ormai da diversi anni anche ad assaltare in un certo senso dialetticamente adesso anche con una paventata più o meno reale guerra commerciale gli interessi stretti della Germania cioè pensare che la Germania debba essere colpita in quello che è una straordinaria potenza economica e concludo tornando sull'aspetto di chi come i tedeschi se ne stupisce tremendamente i tedeschi di fatto hanno fatto tutto quello che gli americani hanno chiesto loro hanno smesso ogni tipo di ragionamento strategico pensi che veramente strategicamente non riesce quasi mai a ragionare ormai cioè crede che l'economia sia l'unica dimensione della potenza e quindi mediamente finisce male un paese così ma la Germania è troppo capace per rimanere soltanto questo e gli americani lo sanno un paese che è destinato a grandi imprese c'è una fase in cui supera l'aspetto meramente economico ed è la fase che è l'incubo per gli americani la fase in cui i tedeschi arrivassero a questo tipo di apice oggi ad esempio da un punto di vista strettamente militare nonostante le promesse nonostante il fatto che gli stessi americani chiedono ai tedeschi di spendere più di più nel loro budget per la difesa la Germania dal punto di vista difensivo militare per capirci proprio non esiste per usare l'espressione di un capo di stato maggiore britannico i militari tedeschi sono campeggiatori aggressivi cioè è una è una formula anche diciamo vagamente dispregiativa ma che ci dà l'idea della percezione che hanno le potenze militari la Gran Bretagna è in declino ma che comunque restano potenze militari i tedeschi se ne stupiscono molto non vuol dire che se ne stupiranno all'infinito oggi c'è poi sentiremo ovviamente le altre opinioni una certa presa di coscienza che in questa fase si concetta soprattutto sulla un po' sul disgusto nei confronti di questo atteggiamento americano nei loro confronti un po' sul grande stupore a cui facevo riferimento dall'altro lato e qui veramente concludo la possibilità che dallo stupore al disgusto nel momento in cui peraltro ciò che è intorno alla costruzione europea non se la passa benissimo diciamo così per usare un eufemismo la Germania possa fare il salto il salto di qui sopra ed è questo essenzialmente il grande incubo ripeto degli americani forse sopravvalutato c'è un'ossessione ancestrale ma è qualcosa che ne muove spesso il pensiero quando viene applicato all'Europa per cui non aspettiamoci da parte dell'amministrazione statunitense ad esempio grande scetticismo nei confronti del nostro di governo per niente perché anche qui un po' in maniera velleitaria sopravvalutandolo lo si immagina antagonistico alla Germania il che in questa fase per gli americani va più che bene grazie grazie Dario per questo quadro molto interessante che ci ha portato anche secondo me in modo molto utile fuori dall'Europa per guardare all'Europa che noi spesso siamo costantemente eurocentrici noi italiani poi talocentrici nel modo di intenderci e spesso sarebbe il caso sovente di guardarsi anche un po' da fuori in un contesto più globale per comprenderci meglio ritornerei però con il prossimo ospite a Berlino perché il prossimo ospite è Ubaldo Villani Lubelli che è un ricercatore all'Università del Salento ma anche un attentissimo osservatore di politica interna tedesca capita molto spesso di chiamarlo e lui è in qualche comizio in qualche paesino sperduto della Germania a raccontare veramente quello che succede all'interno per l'Huffington Post e per altri canali presso cui scrive quindi chiederei a Ubaldo qual è la situazione politica interna tedesca come si posiziona il governo tedesco e proprio a fronte di questi nuovi diciamo equilibri politici interni quali possono essere le conseguenze per l'Europa e anche come si posiziona il governo verso l'Italia grazie grazie Matteo per poter iniziare a capire qual è la posizione del governo tedesco io credo che dobbiamo fare un piccolo passo indietro un passo indietro breve dal punto di vista storico ma indispensabile e dobbiamo naturalmente tornare alle elezioni politiche tedesche del settembre dello scorso anno vorrei iniziare con una citazione molto che è stata molto ripresa dai quotidiani di tutto il mondo della cancelliera Merkel in cui durante il G7 di Taormina del maggio scorso la cancelliera disse i tempi in cui l'Europa poteva fare affidamento sugli altri sono finiti noi europei dobbiamo prendere il nostro destino nelle nostre mani si trattava di un'affermazione conseguenza del neo isolazionismo di Donald Trump ed era un'affermazione che si inseriva proprio pochi giorni dopo l'elezione di Macron in Francia in qualche modo l'ascesa di due leader opposti come Trump da una parte e Macron dall'altra sembrava aver aperto un scenario del tutto nuovo inaspettato per l'Unione Europea in quanto si sperava in quella fase storica che grazie appunto all'impegno di Macron e appunto anche della Germania in particolare si potesse riprendere il cammino interrotto in qualche modo del processo di integrazione europea non a caso poi Macron programmò proprio il suo discorso sull'Europa due giorni dopo le elezioni tedesche alla Sorbona di Parigi in realtà però questo scenario che sembrava particolarmente ottimistico per quanto riguarda l'Europa ha trovato un ostacolo inaspettato nelle elezioni tedesche perché è vero che certamente l'Unione Europea in qualche modo soffre e paga una serie di problemi strutturali che riguardano la sua organizzazione istituzionale ma naturalmente le elezioni tedesche hanno rappresentato un punto di non ritorno secondo me per quanto riguarda questa nuova fase che si sperava potesse iniziare nel processo di integrazione europea perché sono state le elezioni che sono le più importanti della storia della Repubblica federale tedesca ma non solo sicuramente sono le elezioni più importanti e più significative dalla riunificazione e cerchiamo di capire perché prima di tutto con le elezioni del settembre scorso non sono soltanto stati ridimensionati i grandi partiti di massa tedeschi i cosiddetti Volksparteien cioè la SPD da una parte e l'Unione dall'altra ma questi partiti hanno addirittura ottenuto insieme il loro minimo storico cioè mai nella storia della Germania SPD e Unione avevano preso così pochi voti e secondo naturalmente l'ESPD ha preso il minimo storico in assoluto nella sua storia e l'Unione è il peggior risultato il secondo peggior risultato nella storia della Repubblica federale conseguenza di questo ridimensionamento dei partiti di massa è stato anche che nel Bundestag nel Parlamento tedesco sono entrati ben sei partiti e diciamo sei gruppi parlamentari che corrispondono poi a sei partiti perché i cristiano sociali i cristiano democratici uniti formano un unico gruppo parlamentare che anche questo è un'anomalia per il sistema tedesco il sistema tedesco tradizionalmente è un sistema in cui ci sono pochi partiti nel Bundestag sono rappresentati pochi partiti e soprattutto questo è un fortissimo elemento appunto di instabilità ma il terzo elemento che secondo me è quello poi più interessante ed è stato in qualche modo già anticipato dall'ambasciatore Valenzise è l'entrata nel Bundestag di un partito di estrema destra la AfD che è un partito che è nato nel 2013 in vista delle elezioni appunto politiche del 2013 con i toni prevalentemente legati ad un anti-europeismo però legato proprio alla moneta c'è un ritorno quindi del Marco ma che in realtà negli ultimi anni ha assunto dei toni un po' che l'hanno legata a quegli altri movimenti nazionalisti e sovranisti francesi in parte italiani e quindi diciamo la retorica e la politica anti-immigrati ecco questo elemento è estremamente importante perché per la prima volta nella storia della Repubblica federale tedesca un partito di estrema destra prendeva quasi il 13% c'erano stati dei partiti di destra che in passato avevano riusciti ad entrare nel Bundestag ma adesso questa è una questione un po' complessa però mai avevano avuto un consenso così ampio e questo è il grande problema secondo me delle elezioni politiche tedesche della Germania di oggi che in qualche modo cambia il ruolo il contesto della Germania nell'Europa ora i motivi per cui diciamo l'AFD ha avuto questo consenso così ampio sono tanti magari si può poi si può ritornare anche perché in qualche modo ci lega anche con i panel che sono stati fatti oggi e ieri all'interno di questo festival però diciamo due o tre ne volevo assolutamente citare perché sono fondamentali per capire appunto proprio il processo politico il primo è naturalmente il diciamo la questione del diciamo del conservatismo diciamo delle posizioni conservatrici moderate che nell'era Merkel e l'Unione ha assunto che in qualche modo ha fatto sì che si creasse una sorta di vuoto politico a destra e come spesso si dice in politica i vuoti non devono necessariamente essere riempiti inoltre poi c'è naturalmente anche una questione legata all'abuso della cosiddetta grande coalizione ricordiamo che la Germania è oggi alla terza grande coalizione negli ultimi 12 anni la prima tutta nell'era Merkel e la prima è unica cioè la prima prima appunto di questa fase della cancelliera Merkel fu nel 1966 e questo ha contribuito appunto a far nascere un partito alla destra dell'Unione in parte il terzo elemento che secondo me anche qui è fondamentale è che in realtà soprattutto in alcune zone della Germania soprattutto nei l'Ender dell'Est c'è un problema di disparità economiche di difficoltà economiche che molto spesso secondo me diciamo nel dibattito pubblico non vengono a sufficienza messi in risalto e a cui diciamo a cui si aggiungono i problemi legati appunto al fenomeno migratorio che come appunto veniva detto tra l'altro nel panel precedente nel 2015 ha rappresentato un po' un punto di svolta perché è da allora che il consenso della cancelliera Merkel è calato in Germania vi ricordo che nel 2015 AFD era un partito non solo spaccato al suo interno ma soprattutto era un partito che nei sondaggi era di fatto sparito dal panorama politico tedesco quindi diciamo questo quadro estremamente complesso e assolutamente insolito per la Germania che ha riscoperto una qualche instabilità politica interna ricordiamo quanto tempo ci ha messo la Germania a costituire un governo ricordiamo il fallimento della coalizione giamaica le difficoltà anche che ha comportato iniziare le trattative per la nuova per la terza grande coalizione nell'era Merkel con le dimissioni di Schulz e quindi diciamo anche la crisi interna dell'Espede e mi permetto anche una breve parentesi molto spesso si fa un paragone tra Italia e Germania sulle difficoltà dei due paesi nel fare la formazione del governo ma in realtà sono assolutamente imparagonabili un po' perché proprio il processo è diverso ma al di là di quello diciamo primo pur nella fase di difficoltà della formazione del governo nessuno in Germania nessuno dei partiti che diciamo ha tentato nelle due fasi la formazione del governo ha messo mai in discussione la vocazione europea della Germania e secondo ricordo che un altro aspetto che spesso non viene citato a sufficienza nella fase in cui il governo tedesco ancora non era appunto insediato c'è il nuovo il governo Merkel 4 ci è stata una grande operazione diplomatica del ministro degli esteri Gabriel che poi non è stato confermato che Gabriel è riuscito a liberare un giornalista tedesco turco tedesco che era appunto arrestato in Turchia questo dimostra come anche in una fase di instabilità e di crisi istituzionale comunque ci sia uno Stato che riesce in qualche modo a continuare a tutelare gli interessi di una nazione e questo sono i due punti secondo me fondamentali ma questo quadro quali conseguenze ha per l'Unione Europea e per il ruolo della Germania all'interno dell'Unione Europea quindi in qualche modo anche nelle relazioni intero-dedesche noi abbiamo a che fare oggi con un governo che è certamente più debole rispetto al passato cioè il quarto governo Merkel è un governo politicamente più debole perché primo di tutto perché al Bundestag ha una maggioranza più risicata del passato secondo perché naturalmente oggi ha a che fare con una triplice opposizione che viene da sinistra dall'estrema sinistra dai verdi diciamo questa sinistra moderata dai liberali ma anche appunto da destra questo è un problema per un governo che deve in qualche modo portare avanti una determinata politica all'interno appunto del Bundestag però questo a mio avviso anche se si tratta di un governo più debole e che in qualche modo avrà delle difficoltà oggettive in politica interna non significa che non sarà un governo che non cercherà di essere protagonista in Europa forse in qualche modo sarà un governo meno ambizioso sarà un governo meno libero rispetto al proprio elettorato diciamo rispetto agli umori della società tedesca e sarà un governo che tutelerà principalmente gli interessi tedeschi questo che vuol dire vuol dire che due cose primo non diciamo qualche settimana fa la commissione europea ha presentato il bilancio le proposte per il bilancio europeo per il quadro finanziario pluriannale nello stesso giorno il governo tedesco ha presentato il il suo bilancio ed è interessante notare come proprio in quel bilancio il governo che è occupato è guidato da Horst Sehofer che è il leader l'ex leader di Cristiano Sociali Bavaresi avrà un gente un maggiore investimento rispetto al passato e Sehofer guida oggi un super ministero dell'interno che ha delle competenze e delle deleghe molto più ampie rispetto al passato perché comprende edilizia perché comprende la cosiddetta Heimat cioè in qualche modo questo legame che i tedeschi hanno con la propria tradizione culturale e questo è un dato estremamente importante e secondo e qui chiudo la centralità degli interessi tedeschi ci fa notare come in realtà tutto un dibattito che noi abbiamo avuto in questi anni in cui dicevamo che la Germania non poneva diciamo gli interessi europei al centro della sua azione in realtà noi oggi probabilmente nei prossimi anni scopriremo cosa vuol dire per la Germania tutelare i propri interessi e questa è una questione molto grave perché noi non abbiamo capito quanto la Germania abbia cercato pur con le difficoltà interne che hanno avuto in questi anni di salvare diciamo l'intera architettura europea il rischio è che noi nei prossimi anni scopriremo una Germania che veramente tutelare i propri interessi perché sarà molto più condizionata al suo interno da partiti appunto come l'estrema destra di AfD ma anche da frange interna ai conservatori che non hanno diciamo che hanno diciamo sono espressione di un europeismo molto più diciamo timido rispetto a quello espresso dalla Merkel in questi anni che forse è stato percepito un po' freddo ma pur sempre l'europeismo era grazie 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 Ubaldo per questa analisi lucida ma devo dire così che non lascia un po' meno spazio a qualche progetto di rilancio verrebbe quasi da pensare che per la Germania il treno e la possibilità politica interna per rilanciare l'Europa sia in un certo senso passato cioè nella legislatura precedente era molto più facile politicamente trovare un consenso interno che oggi in realtà pare molto più difficoltoso ma sempre rimanendo a Berlino abbiamo il nostro prossimo ospite che anzitutto ringrazio particolarmente il professor Polk Iens Polk dell'Università di Trento professore di diritto comparato che noi cittadini particolarmente abbiamo una policy qua che confermerà il nostro presidente Valenzise in qualunque nostro dibattito in Germania o in Italia di avere almeno una presenza effettiva di un italiano e di un tedesco per dar sempre la possibilità anche ai nostri ospiti di vedere un dibattito deviso tra italiani e tedeschi quindi ringrazio di cuore il professor Polk di essere qua con noi e gli chiederei in particolare una cosa emersa un po' da quello che diceva Dario cioè prima di tutto gli vorrei chiedere che cosa si aspetta e che cosa può fare effettivamente la Germania per l'Europa oggi e poi se confermi quello che Dario diceva e cioè se la Germania ha iniziato a pensare in modo strategico anche e geopolitico in Europa quali sono i rischi e quali sono le opportunità di questo così tornare a pensare e fare politica estera della Germania grazie grazie mille buonasera a tutti allora faccio il tedesco della situazione che mi renderà mi sarà reso un po' difficile il fatto che vivo in Italia qui prima a Bolzano poi a Trento da quasi 25 anni ma ci torno spesso in Germania miei genitori miei parenti vivono lì e seguo ovviamente molto attentamente le questioni e devo iniziare con una banalità che è quella che la Germania non è più quella di una volta nel senso che secondo me c'è una grande cesura che è quella della riunificazione io stesso faccio parte di quello che simpaticamente è stato denominato dei campeggiatori probabilmente io ero nemmeno aggressivo ai tempi della guerra fredda oggi l'esercito tedesco è impegnato in missioni all'estero quanto l'esercito italiano allora anche lì le questioni sono molto cambiate però ovviamente sono cambiate in seguito a questa grande cesura della riunificazione che significa una certa normalizzazione anche direi per rispondere immediatamente alla domanda no nel senso che io non vedo ancora un potenziale e un pensiero soprattutto geostrategico geopolitico dalla classe dirigente in Germania con la dovuta eccezione che è stata fatta prima e la precisazione che questo non riguarda l'ambito economico però per tutto il resto soprattutto politico militare sono forse sono ingenuo ma penso che prevale ancora lo schema di pensare della guerra fredda e appunto dei primi anni post unificazione e questo secondo me è molto importante per collocare un po' il discorso Germania Europa possiamo quasi procedere per decenni dopo la riunificazione negli anni 90 la Germania in qualche modo si autoisola quasi anche per quanto riguarda il campo europeo perché le riforme Maastricht mercato interno l'euro erano già avviate e il governo Col si occupa praticamente di compiere tutte le questioni che erano necessarie per la riunificazione allora una sostanziale assenza poi abbiamo la riforma e il ritorno alla scena europea con le riforme interne prima e poi in parallelo anche alcune proposte di riforma del governo Schröder Fischer famoso discorso di Joschka Fischer per ricordare l'idea di un trattato costituzionale con un elenco dei diritti fondamentali che non per caso inizia anche qui con la dignità della persona la stessa apertura della costituzione tedesca e poi abbiamo invece nell'ultimo decennio sostanzialmente Angela Merkel che salva il disastro lasciato dal fallito tentativo di arrivare al trattato costituzionale col trattato di Lisbona che è quello che vediamo adesso in Europa una razionalizzazione dello status quo uno status quo ad alto livello però è sostanzialmente una razionalizzazione e questo io trovo conferma se guardiamo quasi guardiamo le ultime due campagne elettorali in Germania lo slogan del partito di Angela Merkel nel 2013 era weiter so Deutschland avanti così Germania status quo avanti così e nel 2017 addirittura c'era il famoso tweet feed it with Google che nessuno sapeva cosa significasse vuol dire per una Germania in cui viviamo bene e volentieri ma cosa significa è un progetto questo cosa significa allora è anche lì lo status quo e lì abbiamo la soddisfazione da una parte dell'elettorato che continua a avere come grande priorità la stabilità questo è quello che è il desiderio di stabilità dopo la catastrofe della seconda guerra mondiale e la ricostruzione quello che ha caratterizzato la Germania e il trauma che c'è dentro e per questo anche in parte si spiegano alcune reazioni anche così se l'Italia vuole fare questo no questo proprio va contro la stabilità che è proprio la priorità l'imperativo politico dall'altra parte adesso non dovrei dirlo qui ma i miei stessi genitori che sicuramente hanno votato più Angela Merkel piuttosto che qualcun altro hanno risposto alla mia domanda perché non siete contenti con questa situazione ma perché avremmo voglia di avere un cambiamento di avere un aufbruch proprio una partenza qualcosa di nuovo c'è proprio un'attenzione all'interno della popolazione che è ovviamente creata anche dalla grande coalizione dal fatto che ci sono questi due partiti ormai come è stato ricordato prima in coalizione da tanto tempo e questo dall'altra parte rende più forti come è stato anche detto gli estremi però questo non ancora porta a delle sperimentazioni perché è stato fatto il tentativo il negoziato con la cosiddetta coalizione giamaica in alternativa alla grande coalizione è stato fatto anche un lungo dibattito molto interessante a livello costituzionale anche sulla ipotesi di un governo di minoranza che per le varie questioni doveva sempre cercare delle maggioranze in Parlamento secondo punto brevemente la questione come vedono i tedeschi l'Europa secondo me questo non ho ancora proprio scientificamente elaborato ma ho la sensazione che per i tedeschi l'Europa è la proiezione della propria esperienza del secondo dopoguerra a livello europeo per tanti motivi partiamo dal governo delle regole i tedeschi non hanno scelto la propria costituzione non c'era nessun referendum costituzionale non c'era mai nessun referendum su stare in Europa o meno questo grazie anche agli americani non c'era alternativa però i tedeschi hanno interiorizzato questo hanno sviluppato queste regole con un sostrato importante un fondamento di valori così tanto che un famoso politologo tedesco Wolf Sternberger ha sviluppato su questo il patriotismo costituzionale al posto del nazionalismo e Jürgen Habermas ha riproposto questo qualche decennio fa anche per il livello europeo in assenza della possibilità di avere un popolo europeo una costituzione europea di partire da questi valori ma questo significa che questi valori devono essere anche seri devono dare stabilità devono essere rispettati non sono valori con cui posso giocare ma sono proprio la base di tutto sostituiscono fino a un certo punto anche la volontà del popolo e questo porta ad un'altra istituzione importantissima in Germania che è il Tribunale Costituzionale federale perché garantisce questi valori contro la politica garantisce i diritti dei cittadini e allora in questo senso anche la Corte di Giustizia europea che è così importante in un'integrazione basata sul diritto è in qualche modo molto parallelo a quanto gli stessi tedeschi hanno vissuto e vivono e per questo anche l'importanza di questa istituzione che si potrebbe anche dire il fatto che ogni tedesco per affermata lesione dei propri diritti fondamentali può fare ricorso individualmente alla Corte Costituzionale e in qualche modo è stata vista anche come una sostituzione ad un referendum che non è possibile perché si è usata questa strada anche per mettere in dubbio per mettere in questione il trattato dell'Unione Europea come sappiamo con la sentenza Lisbona e altri ancora io non posso andare molto avanti voglio dire solo due cose ancora su questa proiezione il fatto che nel sistema istituzionale dell'Unione Europea abbiamo due camere sostanzialmente il consiglio che assomiglia al Bundesrat tedesco e il Parlamento che assomiglia al Parlamento tedesco abbiamo un sistema di attuazione decentrato sono tutte cose che i tedeschi masticano molto bene perché il sistema federale tedesco funziona adesso con ovviamente molte astrazioni ma semplificazioni in maniera molto simile chiudo sul discorso molto importante degli effetti futuri allora secondo me c'è una insicurezza di fondo della Germania e se alza la voce forse è proprio un sintomo proprio paradossalmente per questa insicurezza della Germania da una parte questo fortissimo desiderio della stabilità e probabilmente la coscienza che con la situazione attuale questa stabilità non è possibile mantenerla in Europa ma ci sono importanti riforme da fare e qui il limite di non avere loro stessi un piano per l'Europa anche perché se lo avessero sarebbe subito giustamente accusato come progetto di imposizione e di dominazione e la stessa costruzione europea dovrebbe essere proprio il contrario ma non hanno nemmeno e lì concordo con quanto è stato detto prima la capacità di vivere a livello europeo quello che è un principio costituzionale in Germania che regge il sistema federale il principio di leale collaborazione perché ci vorrebbe più cooperazione ci vorrebbe cooperazione che significa anche comprensione e empatia e da questo si potrebbe arrivare anche a qualcosa che si chiama solidarietà e che è totalmente assente nel dibattito soprattutto in Germania e chiudo con una citazione di un libro che fa il confronto Italia-Germania Europa di due anni fa la Germania ha bisogno dell'Europa e dell'euro quanto l'Europa ha bisogno della Germania grazie 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 mille Iens beh questo devo dire che è stato ottimista diciamo ci hai dato secondo me una 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 buonissima prospettia hai fatto passare secondo me qualcosa che in realtà noi italiani non passa nel senso passa molto di più tutta la parte diciamo più ostruzionista del progetto di integrazione europea tu ci ricordi che in realtà ne esiste un'altra un'altra anima che in realtà è molto propositiva e costruttiva solidale che è una parola che non sempre ai tedeschi piace agli italiani forse piace troppo allora siamo arrivati quasi alla fine e sono molto molto contento che Danilo Taino del Corriere della Sera uno dei più fini direi inviati a Berlino che sicuramente vi sarà capitato di leggere Danilo tu da grandissimo conoscitore delle opinioni pubbliche dell'opinione pubblica italiana sei da poco rientrato in Italia di quella tedesca e anche soprattutto alla luce del fatto che noi sappiamo Angela Merkel essere molto sensibile ai cambiamenti a percepire l'opinione pubblica tedesca quali sono secondo te anzitutto le diverse sensibilità delle due opinioni pubbliche nel vedere nel percepire l'Europa e anche se ci puoi dare un quadro un po' di così speculativo diciamo di quello che potrà succedere da qua ai prossimi mesi soprattutto alla luce delle importanti fatti che dovevano succedere nel 2019 mi riferisco elezioni politiche europee proposte di Macron su cui ancora la Germania è attendista e non ha in realtà risposto ancora con nessuna proposta concreta qual è secondo te quella è la tua opinione insomma grazie buonasera qui siamo stati tutti secondo me giustamente molto molto gentili abbiamo un po' anche camminato sui gusci d'uovo vista quella che è la situazione in realtà secondo me in Europa la leale cooperazione in questo momento non c'è non c'è probabilmente a nessun livello e raramente credo io l'Europa è stata così divisa nemmeno nell'occasione della crisi greca che pure è stata una crisi seria e della crisi finanziaria cioè qui non c'è un Mario Draghi che dirà whatever it takes e risolverà la situazione le divisioni che ci sono sono profonde secondo me adesso fra un'ora circa il presidente del consiglio incaricato Conte andrà da Mattarella e ha annunciato che sarà un incontro formale quindi gli presenterà probabilmente immagino la lista dei ministri oltre che il contratto che è stato firmato dalla Lega e dai 5 Stelle immagino che nella lista dei ministri al ministero dell'economia presenterà Savona perché non credo che possa fare diversamente e non so quale sarà naturalmente la risposta di Mattarella può dirgli va bene vai avanti può dirgli no facciamo le elezioni oppure può dire faccio io un governo neutrale queste immagino siano le tre possibilità comunque è inutile stare a fare delle previsioni adesso nel senso che quello che deciderà Mattarella lo sapremo credo entro entro stasera la situazione italiana che si è venuta a creare il 4 marzo è una rottura fondamentale a mio parere e ce ne stiamo rendendo conto adesso se ne sta rendendo conto l'Unione Europea in questi giorni se ne stanno rendendo conto probabilmente i mercati in questi giorni è una rottura fondamentale perché comunque è messa in discussione la collocazione italiana da 70 anni a questa parte a livello internazionale in Europa ma anche per esempio nei confronti di Putin e quindi questo chiama in causa anche la Nato chiama in causa anche la solidarietà internazionale l'Italia è un punto di crisi europea fortissima io non voglio minimamente criticare i vincitori o i presunti vincitori delle elezioni non è quello che mi interessa fare in questo intervento dico solamente che la situazione è questa anche perché non lo voglio fare per un motivo molto semplice che comunque l'Italia non è l'unico di questi punti di crisi dell'Europa i punti di crisi che ci sono in Europa e non solo in Europa direi in Occidente sono tanti e si moltiplicano la Brexit è il primo non possiamo pensare che l'Europa sia quella di prima senza la Gran Bretagna è impensabile è un'altra cosa totalmente un'altra cosa non possiamo pensare che non conti niente il fatto che i due partiti centrali della Germania paese centrale per l'Europa i due partiti fondamentali siano comunque due partiti in crisi dopo le elezioni del 24 settembre scorso in Germania la CDU e l'SPD sono due partiti in crisi e in tutta Europa i partiti di centro di centro-sinistra o di centro-destra sono in difficoltà in Francia sono stati spazzati via bene ha vinto Macron ma comunque i partiti tradizionali sono stati spazzati via sostanzialmente in Grecia i socialisti sono stati distrutti dal punto di vista politico in Spagna la situazione è molto simile anche in Spagna in Austria non possiamo pensare non renderci conto che è successo qualcosa di importante in Austria l'ambasciatore Valenzise prima citava naturalmente i paesi di Visegrad che comunque non parteciperanno a più Europa ma a più Europa non parteciperanno neanche quelli della cosiddetta lega ansiatica della nuova lega ansiatica gli otto gli otto paesi del nord Europa voglio dire in più in più come è stato accennato e detto prima c'è la crisi c'è la crisi della relazione transatlantica che direi non è cosa da poco dal punto di vista europeo cioè io credo che la situazione europea non sia mai stata così difficile divisa come in questo momento questo è solo una fotografia che comunque credo che sia abbastanza condivisibile un po' da tutti si può stressare in un modo o si può stressare in un altro ma comunque questa è la situazione temo che l'Italia sarà un punto importante da questo punto di vista perché comunque questi partiti la lega e il movimento 5 stelle hanno espresso hanno espresso opinioni non esattamente in linea con l'europeismo tradizionale di questi ultimi decenni sarebbe opportuno probabilmente che le classi dirigenti o quelli che sono considerate o che considerano se stesse le classi dirigenti europee non parlo solo dei partiti per quel che riguarda l'Italia parlo degli accademici parlo dei media dei giornali parlo della grande burocrazia parlo degli ambasciatori naturalmente parlo di coloro che determinano la politica in Italia parlo della confindustria parlo dei sindacati parlo dei partiti politici naturalmente forse dovrebbero fare una riflessione su quali errori sono stati fatti per arrivare a questa situazione e credo che lo stesso possa valere anche per tutti gli altri paesi si parla di populismo raramente si parla di perché questo cosiddetto populismo ha avuto così tanto successo in Italia sicuramente perché l'Italia poi è una situazione speciale con errori particolari con una crisi abbastanza profonda dello Stato ma anche in altri paesi sta prendendo piede il litigio perché lo possiamo chiamare così che c'è stato in questi giorni tra alcuni italiani e alcuni tedeschi è piuttosto forte e io temo che andrà avanti anche nelle prossime settimane se dovesse formarsi in Italia un governo io ho conosciuto in passato molto spesso mi è capitato di parlare con il professor Savona che è un economista sicuramente interessante intelligente anche se io molte delle sue opinioni non le condivido soprattutto perché è un keynesiano quindi non è nel mio tipo di impostazione personale è comunque sicuramente una persona per bene ma questa uscita sulla Germania francamente non riesco a trovarne il senso questa lettura della volontà di potenza economica della Germania certo la Germania fa i suoi interessi come l'Italia dovrebbe fare i suoi anche se spesso non li fa dall'altra parte non mi ha nemmeno stupito troppo invece la reazione di alcuni media tedeschi in particolare quelli che hanno criticato violentemente in modo secondo me sconsiderato l'Italia in termini veramente cheap di poco conto voglio dire anche se le critiche all'Italia naturalmente sono spesso più giustificate anche dal punto di vista tedesco e anche da un punto di vista tedesco insomma per farla breve a me sarebbe piaciuto che la Germania avesse preso una leadership che Merkel fosse uscita dalle elezioni rafforzata che avesse potuto fare ricostruire come si è detto il rapporto l'asse il motore dell'Europa insieme alla Francia di Macron io penso che oggi in questa situazione e probabilmente secondo me per sempre l'asse fra Berlino e Parigi non c'è più nel senso che se non c'è casca l'Europa ma comunque non può più avere la leadership non è in grado di averla non è in grado di averla con i paesi del nord e quelli del sud insieme non è in grado di averla con l'est europeo non è in grado di averla ahimè nemmeno nei confronti degli Stati Uniti che è questione secondo me chiave il rapporto dell'Europa con gli Stati Uniti e quindi io non lo so io non sono tanto ottimista Danilo dopo questa sciabolata non ci lasci molto spazio però prima di aprire il divaetto al pubblico che invito già a pensare a qualche domanda vorrei un minuto a testa che gli ospiti rispondessero a questa domanda che disorienta credo qualunque studente io mi considero tra questi che ha studiato relazione internazionale di scienze politiche eccetera torniamo in Italia è possibile anche a luce di quello che succederà da qui a quando incaricheranno il prossimo governo pensare la posizione italiana al di là dell'europeismo e dell'atlantismo che sono sempre state le nostre due coordinate teoriche fondamentali su qualunque tipo di analisi che di pensiero che uno abbia mai formato un minuto su questa domanda partiamo in ordine è molto difficile immaginare un'Italia fuori appunto dall'Unione Europea fuori non lo so forse dalla Nato non lo so però certo è che noi dobbiamo partire dal presupposto che c'è un governo soprattutto un forte consenso diffuso nel paese che è fortemente anti-europeo l'ultimo sondaggio dell'Eurobarometro lo attesta ma non c'è bisogno di sondaggi basta girare un po' il paese per capire quanto è diffuso il sentimento anti-europeo naturalmente adesso non possiamo discutere sulle ragioni perché si è così radicato però dobbiamo anche renderci conto che l'Unione Europea è un prodotto storico così come è nata può finire sta a noi europeisti se ci crediamo difenderla perché appunto è un prodotto storico come tutti i prodotti storici può venire io credo che non solo sia difficile immaginare l'Italia fuori dell'Unione Europea l'Italia fuori dell'Europa ma che sia anche molto rischioso e credo che questo punto debba essere uno appunto dei punti da chiarire al meglio al massimo da parte di chiunque abbia da stasera o da quando sarà delle responsabilità di governo credo che ci sia un problema di coerenza tra quello che si dice e quello che si fa e anche un problema di coerenza tra quello che si dice da parte degli uni e quello che si dice da parte degli altri prima chiariamo questo dilemma e meglio sarà per tutti quando per essere ancora più concreti il Presidente del Consiglio incaricato è uscito mercoledì scorso dall'incontro dal primo incontro con il Presidente della Repubblica come avete sentito il primo punto che ha messo nel suo breve resoconto è stata la garanzia della collocazione internazionale ed europea dell'Italia adesso bisognerà vedere quanto i fatti quanto gli sviluppi che seguiranno saranno coerenti con quella garanzia con quella assicurazione io personalmente spero che lo siano diciamo non coincidono esattamente le due cose cioè essere atlantisti europeisti allo stesso tempo il rapporto atlantico dell'Italia probabilmente è destinato a rimanere quello che è il margine di manovra è proprio pochissimo al di là di grandi idee dell'Italia l'Italia ha avuto avrà la necessità di avere anche un rapporto interessante definiamolo così con la Russia per molte ragioni non soltanto economiche che adesso non approfondiremo e che da sempre ha perseguito una volta in maniera con un'ideologia una volta in un'altra una volta in tempo del partito comunista oggi sono i partiti di destra a perseguire lo stesso proposito strategico ma questo c'è e rimane un proposito strategico quando c'è viene applicato da partiti anche con ideologie diverse in maniera tutta inconsapevole come succede spesso in politica però l'Italia è legata agli Stati Uniti le nostre forze armate sono ancillari a quelle americane non esistono da sé non c'è nessuno che può salvarci da noi stessi anche da potista militare quindi è impossibile slegarsi dagli Stati Uniti qui anche c'è una sorta di schizofrenia perché c'è un certo iato uso un eufemismo tra ciò che chiede la Casa Bianca e ciò che chiedono gli apparati americani che è ciò qui abbiamo l'ambasciatore Valenzise che è il nostro interlocutore classico molto più della Casa Bianca che dicono di fare una cosa e Trump ne dice un'altra questo un po' ci sbalestra ma i nostri apparati devo dire come tutti gli apparati seguono lo status quo e quindi essenzialmente scelgono la strada quella classica dell'atlantismo i nomi che sono stati fatti ad esempio è il ministro degli esteri mi perdonerà l'ambasciatore che non è esattamente il ministro il ministro è molto importante ma non è esattamente il ministro più importante un governo in Italia purtroppo però sono nomi molto vicini agli americani anche qui mi tengo mi tengo basso soprattutto chi adesso sembra non più in pole position come Massolo che prima invece sembrava in grande in grande ascesa quindi lì bisogna rimanere sull'europeismo è un po' diverso il discorso un po' perché appunto gli americani adesso ti chiedono di non esserlo più più in fondo e questo ci dà consapevolezza sarebbe veramente un grande beneficio prova a spiegarmi noi andiamo da un estremo a un altro sempre in maniera molto ideologica una volta eravamo convinti che l'Europa ci avrebbe salvato era la panacea da tutti i mali con questo complesso di inferiorità classico che abbiamo nei confronti dell'Europa settentrionale lo stellone che ci doveva salvare l'Europa è la causa di tutti i mali e noi se siamo così è colpa dell'Europa quindi della Germania o di chi per essa se noi finalmente riuscissimo a sviluppare e concludo qualcosa di maggiormente razionale capire che l'Europa non è né la causa dei mali ma nemmeno qualcosa di taumaturgico ma è semplicemente un foro nel quale gli stati e soltanto gli stati perseguono il loro interesse nazionale ed è meglio stare dentro a un foro dove gli atti perseguono l'interesse nazionale che guardarlo dal buco della serratura ma darci una svegliata da questo punto di vista non sarebbe male se l'Italia io come stavo detto non sono un grandissimo appassionato di Savona per carità lo reputo un signore estremamente competente ma se l'Italia non ha nemmeno il diritto di dibattere al suo interno ad esempio se la moneta unica è favorevole o meno al suo interesse nazionale e io non lo so sinceramente ma se non ha il diritto di farlo siamo messi molto male cioè un paese deve avere il diritto di discuterne e anche di scegliere qualcosa che in quel momento pensa sia la stata giusta in maniera possibilmente non ideologica se questo cambiasse senza passare più da un estremo ad un altro ma guardando l'Europa soltanto per quello che è a mio avviso sarebbe un miglioramento non da poco grazie naturalmente non si può essere in disaccordo con quanto è stato appena detto sul diritto di discutere in una democrazia ma torno al mio discorso di prima delle regole e dei valori che appunto in Germania probabilmente questo venne percepito comunque come infrangere determinate regole che sono alla base di tutto e questo già parte secondo me del problema perché rischiamo di avere praticamente i capi espiratori già pronti per il disastro che forse riesciamo a evitare almeno spero e qui c'è una parola tedesca che è difficilmente da tradurre che si chiama zweck optimismus e sarebbe l'ottimismo strumentale in qualche modo tu non ci credi del tutto ma hai bisogno perché altrimenti non riesci a fare allora speriamo che possiamo forse far leva di questo concetto volevo solo tornare al discorso sempre dalla prospettiva tedesca interpretando questa domanda dalla prospettiva tedesca nel programma della grande coalizione che è proprio il programma di governo di 150 passapagine molto dettagliate l'Europa c'è l'Europa è il primo punto ma abbiamo anche visto la debolezza dell'avvocato dell'Europa in questo accordo che è stato Martin Schulz che è totalmente sparito dalla scena è stato sicuramente una delle persone più sfortunate dell'attore e dall'altra parte c'è Angela Merkel che come è stato giustamente ricordato è troppo debole o sembra troppo debole internamente per fare quello che tutti i tedeschi non tutti ma tanti tedeschi speravano c'è di voler entrare nel libro della storia con questa ultima legislatura e fare proprio qualcosa di significativo a livello europeo ma senza da una parte la Francia e probabilmente anche senza l'Italia questo sarà impossibile grazie ma io io spero naturalmente come credo un po' tutti che l'Italia rimanga in Europa profondamente nell'Unione Europea e che rimanga un paese un paese atlantico il problema è che siamo di fronte a dover decidere che cos'è in questo momento l'Europa e da che parte andrà l'Europa mi era stato chiesto prima nel primo intervento quali sono quali quali può essere lo sviluppo il futuro Macron le proposte di Macron dal punto di vista dell'Unione Monetaria la maggiore integrazione io credo che in teoria sia assolutamente necessaria una maggiore integrazione all'interno dell'area dell'area euro il problema è che non è minimamente facile purtroppo le elezioni italiane non lo renderanno più facile qui dobbiamo voglio dire rafforzare rafforzare l'Unione Monetaria qui dobbiamo fare probabilmente un ripensamento profondo io non so chi sia in grado di fare questo ripensamento profondo dell'avere una leadership in questo ripensamento profondo dell'Europa però quando si parlava prima di Europa che non ha di Germania che non ha una posizione non ha fatto una scelta geopolitica la scelta geopolitica non l'ha fatta purtroppo per anni e anni nemmeno l'Europa nel senso che adesso la riassumo molto e la dico in modo brutale ci siamo concentrati dagli anni da Maastricht in poi su noi stessi solo ed esclusivamente su noi stessi come se davvero dopo la caduta dell'Unione Sovietica fosse finita la storia abbiamo pensato che l'euro fosse l'unico problema che c'era sulla faccia della terra e abbiamo credo io come europei come tedeschi come italiani come britannici come britannici no perché non sono entrati nell'euro come francesi non abbiamo preso un punto di vista che guardasse fuori dall'Europa abbiamo guardato solo al nostro interno secondo me questo è stato un errore gravissimo che stiamo pagando in questo momento quando la geopolitica è tornata al cuore delle relazioni internazionali quando è diventato evidente che il mondo non è come si credeva prima piatto ma è sempre fatto di confini e con questi confini purtroppo sono confini nazionali purtroppo devi fare i conti e quindi secondo me l'Europa ha bisogno di una forte ridefinizione secondo me l'Italia deve starci in questo dibattito in questa discussione però secondo me anche l'Europa dovrà cambiare è difficile stabilire come e soprattutto chi guiderà questo processo grazie 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 Danilo se abbiamo tempo per fare un giro mi dicono di no neanche una una raccolta velocissimo Giancarlo un minuto tre domande massimo dal pubblico per chi per chi ce l'ha magari non ce ne sono eccola Fede vieni ti do il microfono io grazie Federico Fabbrini grazie ai relatori per questi belli interventi devo dire il clima molto pessimistico dopo questo panel ovviamente sono d'accordo con molte cose che sono state dette ma volevo proporre forse uno spunto più ottimista per tirarci sul morale e vedere magari qualche qualche prospettiva per il futuro secondo me c'è un un elemento che è stato poco discusso ovviamente un panel era focalizzato su Italia e Germania e a Trento c'è molto interesse per i rapporti tra l'Italia e i paesi a nord e le Alpi però la Francia è un elemento fondamentale secondo me della discussione sul futuro dell'Europa e le prospettive diciamo anche relative agli scenari legati alla situazione politica italiana quindi ero curioso di sapere dalla prospettiva dei relatori del panel se in realtà il risultato delle elezioni italiane può rafforzare in un certo senso la posizione di Macron nella negoziazione con la Germania perché chiaramente la Francia dal punto di vista tedesco è un partner indispensabile la Germania forse può perdere l'Italia ma sicuramente non può perdere la Francia soprattutto poi se si tiene conto che la Germania non ha prospettiva geopolitica la Francia qui diventa un fattore fondamentale in un momento in cui le relazioni transatlantiche sono indebolite quando Macron dice l'unione della difesa l'Europa che deve sapersi proteggere da solo questo fornisce ai francesi nel rapporto con i tedeschi un leverage una leva non da poco e infine il rischio che un domani diciamo tra quattro anni ci possa essere una Le Pen a governare la Francia è una cosa che mi domando può la Germania accettare questo è un rischio che può essere onestamente preso sul serio a Berlino e quindi la discussione sulla riforma dell'unione economica monetaria mi sembra difficile che l'euro possa a questo punto essere riformato a 19 i tedeschi sicuramente non vorranno condividere i rischi con l'Italia ma li condiverà potranno condividerli con i francesi o potranno ancora rischiare di non completare l'unione economica monetaria e perdere la Francia eh chi Presidente qua mi mi lanciano la i francesi e i tedeschi stanno negoziando da mesi da alcuni mesi la nuova edizione del trattato dell'Eliseo loro eh è un negoziato molto difficile molto incerto perché da una parte c'è una posizione francese idealistica visionaria ma poco dettagliata dall'altra parte c'è poca visione da parte dei tedeschi e anche moltissima prudenza cioè si procede con con piedi di piombo però però questa questo esercizio questo negoziato secondo me andrà in qualche modo in porto l'impegno è troppo forte eh il non accordo sarebbe un'opzione secondo me impossibile da immaginare quindi ci dobbiamo preparare a che tra qualche mese possibilmente alla fine dell'anno questa piccola base di rilancio di un'idea di collaborazione franco tedesca e quindi di collaborazione europea sia sul tavolo 55 anni fa quella stessa idea è stata la base per lavorare poi Francia e Germania insieme in un quadro europeo bisogna aspettarsi e prepararsi a che avvenga la stessa cosa sia pure in un quadro molto più critico molto meno di spinta rispetto a 55 anni fa eh e noi in particolare dovremmo essere pronti una ragione in più per fare chiunque sia al governo nei prossimi mesi da noi bene i conti su quello che ci conviene è quello che non ci conviene bene e con questa purtroppo mi fanno cenni dall'onorizzazione che vogliamo chiudere grazie a tutti per essere per essere venuti ringrazio ancora a nome di tutta l'organizzazione anche il direttore della fondazione del gaspio di Trentina Marco Dorizzi che è qua con noi e alla prossima volta grazie grazie